E' un'altra cosa! Vieni, sempre onore agli alpini. Cos'è? Un bombardino. Un bombardino, molto bene, molto bene. Visconti, un bombardino alla vostra salute. Però è analcolico questo bombardino. Sì, è analcolico. Velo? Sì, è analcolico. C'è una bevanda zuccherata che il governo tasserà. Io vado a sciare per bere il bombardino. Una scusa per bere il bombardino. Ovviamente non abbiamo le montagne. Matteo, guarda quanto ti entro e ti vuoi bene qua. Chi è che finisce il bombardino? Qua. Vedi, crede che te. Evviva. Grazie, ragazzi. Un piacere. Matteo, una foto decente. Il palettone è un milanese. Abbiamo vinto a Milano, Matteo, con questo. Abbiamo vinto a Milano. Grande, Matteo. Vuol dire che è buono. Prego, assaggi, per favore. Che è un onore. Grande onore. Alla vostra. Alla sua. Te l'ho detto. Grande, grande onore. Io sono solo davvero e mi viene il buco non lo so. Voilà, sì. Ah, holà. Non sono originale, ma è buonasera. Una persona che ha 80 anni. Veramente, ma dove? San secondo. San secondo partenza. Veramente? Sì. Guarda, te lo l'hai. Com'è che uno a San secondo è venuto di fare il palettone? Beh, perché è una vinta ormai. Comincia la terza generazione. Comincia adesso. Magnani? Magnani. Chi sei la terza? Io sono la terza. Seconda e la prima ero stanotte a lavorare ancora. quartan. Ha preso il premio. Facci una mano lì, per favore. È grande. Le abbiamo bisogno. È una volta buona. Anche se sarebbe. È una volta buona. Perché già a Parma abbiamo faticato. È una volta buona. Sono fatto il bombardino dai vostri soci. si va, si fa il sogno ecco che c'è anche lei ecco che c'è anche lei va che squadra ciao ciao Matteo mi chiederemo se fate due metri di questo c'è la foto senza scannarci mi stanno spingendo anche davanti non lo faccio mica farlo poi la sinistra dice che siamo violenti Matteo Scanno dai un bacino per me all'altro Matteo Matteo fa la passata grazie dove è la bimba? vai 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 grazie grazie la bimba è una ragazza basta 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 ciao caro ciao ci vede si è il venditone sì lo so credo grazie 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 vai grazie grazie vai prego vai prego ciao Capitano, c'è un bacino. Dov'è? La bambina di Capitano. Sei un grande. Ciao, ciao, bella. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, a Castiglione del Lago. Ah, ci sono stato. Brizziarello. Ha preso questo, l'altro. Vieni, sta facendo la palla. Le palla si nascondevano nei tronchi. Vieni, ce la palla. Davvero cosa preferisce, bianco o rotto? Olio. 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 Da voi olio. Da voi olio. Sono olio. Ti vediamo sul Trasimeno. Grazie. Buon calupo. A voi. Buon fortuna. Altrettanto. Ciao. Ciao.